favole al telefono di gianni rodari a inventare i numeri inventiamo dei numeri inventiamo li comincio io quasi uno quasi due quasi tre quasi quattro quasi cinque quasi sei è troppo poco senti questi uno stramiglione di biliardoni un ottone di millantoni un meravigliardo e un meraviglione io allora inventerò una tabellina tre per uno trento e belluno tre per due bistecca di bue tre per tre latte e caffè tre per quattro cioccolato tre per cinque male lingue tre per sei patrizi e plebei tre per sette torta a fette tre per otto piselli e risotto tre per nove scarpe nuove tre per dieci pasta e ceci quanto costa questa pasta due tirate d'orecchi quanto c'è da qui a milano mille chilometri nuovi un chilometro usato e sette cioccolatini quanto pesa una lacrima secondo la lacrima di un bambino capriccioso pesa meno del vento quella di un bambino affamato pesa più di tutta la terra quanto è lunga questa favola troppo allora mettiamo in fretta altri numeri per finire li dico io alla maniera di modena unciduncitrinci quaraquarinci mirimiminci unfande e io li dico alla maniera di roma uncidoncitrenzi qualequalinsi melemelinsi rifferaffe dieci se ti è piaciuto il libro in descrizione trovi il link per comprarlo e non dimenticare di iscriverti per non perderti i prossimi libri